Le vetrine non sono mai troppe, soprattutto in un momento in cui la contraffazione sottrae al paese fatturati mostruosi per via di prodotti di scarsa qualità spacciati per Made in Italy, anche per quanto riguarda la produzione vitivinicola. Ecco allora mille luci su mille calici, dove vanno ad intersecarsi due vie che portano alla crescita e dalla ricchezza del salernitano, il vino e il turismo. Solo un antipasto, peraltro, in vista dei tre giorni dedicati alle migliori produzioni nostrane per il primo salone del vino, in vino Civitas, che si svolgerà dal 2 al 4 dicembre. Ci saranno 50 stand per degustare bontà del vino e non solo, ma anche quelle del food come pane, pasta, olio del nostro territorio, ma poi ci saranno una serie di discorsi tra i vari espositori e di approfondimenti come la sicurezza stradale, come la contraffazione, come il mondo dell'artigianato da cui io provengo, che sarà all'interno, e la collaborazione con Coldiretti, insomma c'è un mondo dietro questo evento.